Ciao a tutti amici fotografi, oggi voglio spiegarvi come mai i vostri guadagni su Shutterstock questo mese sono in picchiata. Innanzitutto non vi preoccupate, questo è normale, succede tutti gli anni e non è colpa vostra. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come detto ci occupiamo anche oggi di fotografia e videomaking. In particolare andremo ad affrontare lo spinoso argomento come mai Shutterstock mi sta pagando molto di meno nei primi mesi dell'anno rispetto a quello che stavo prendendo nei mesi immediatamente successivi. Per avere la certezza di comprendere fino a fondo io consiglio a tutti quanti di seguire questo video fino alla fine e vi invito anche a iscrivervi a questo canale perché se l'argomento trattato in questo video è di vostro interesse probabilmente troverete qualcos'altro di vostro interesse sempre sul mio canale. Lasciate anche un like a questo video così mi aiutate e non poco con l'algoritmo. Ma torniamo a noi, come mai sto guadagnando così tanto di meno? Perché è una cosa visibile, cioè io me ne accorgo proprio, ho guadagnato una certa cifra a novembre, una certa cifra a dicembre, come mai a gennaio guadagno così poco? Come mai a febbraio guadagno così poco? Me ne accorgo, non sono stupido, faccio fatica a fare le divisioni però a fare le addizioni a due fattori ci riesco, quindi me ne accorgo che sto guadagnando di meno. Ora dovete sapere che Shutterstock ha da poco, si fa per dire un paio d'anni se non vado errato, ha da poco introdotto una nuova politica per quanto riguarda i pagamenti ai contributor. Mentre prima c'erano delle tariffe fisse, quindi nel momento in cui io entravo, prendevo tot, dopo un po' di tempo, dopo un po' di vendite il mio livello veniva aumentato e quindi guadagnavo via via un pochino di più. Quelli come me che sono dentro da un pochino più di tempo erano arrivati all'ultimo scaglione, quindi guadagnavano ormai bene. Ed ecco che improvvisamente arriva questa tagliola da parte del nuovo CEO di Shutterstock che decide di sostanzialmente tagliare i compensi ai fotografi e ai videomaker. La direttiva è stata questa, tagliare i compensi. Come? Lo si è dovuto decidere, però la direttiva era tagliare i compensi. Per cui si è pensato di introdurre un sistema che premia i contributor che vendono di più. Quindi nel momento in cui io vendo più fotografie, ecco che il mio livello torna a salire, ma ogni anno viene azzerato. Questo è il motivo per cui a gennaio stiamo guadagnando tutti molto di meno e a febbraio guadagneremo tutti di meno e insomma guadagneremo di meno fino probabilmente a metà o a fine anno quando il nostro livello tornerà a essere quello dell'anno precedente. E questo sistema purtroppo si ripete tutti gli anni. Il sistema ovviamente è spietato e non guarda in faccia a nessuno, nel senso che ogni gennaio il nostro livello viene resettato e quindi noi torniamo a prendere il 15% di commissioni sulla vendita delle nostre immagini. Una volta che superiamo una certa soglia, torniamo a guadagnare il 20. Arrivando allo step successivo prenderemo il 25 e così via. Ora l'ultimo step io sono convinto che sostanzialmente nessuno ci arrivi. Quindi per andare a prendere più del 35% credo che nessun fotografo su Shutterstock in questo momento ci arrivi. Infatti era questa la cosa che loro volevano ottenere. Loro hanno detto noi tagliamo i compensi al 99% dei fotografi. Al 99% dei fotografi diciamo che guadagneranno la metà o meno. Nel mio caso è un terzo. Io sto prendendo un terzo rispetto a prima di questo taglione. Quindi facciamo finta che siano tutti nella mia stessa condizione. Hanno detto alla maggior parte dei fotografi che d'ora in poi guadagneranno un terzo di quello che prendevamo prima. L'1% dei fotografi, quelli che vendono più di 25.000 fotografie l'anno, possono tornare a guadagnare il 40%. Ma non da subito. Da metà anno verso fine anno, quando arrivano a 25.000 vendite. Non è facile vendere 25.000 file su Shutterstock. Bisogna arrivarci. Quindi non è semplice. Per cui sostanzialmente hanno tagliato il 66% dei profitti di tutti quanti i fotografi e hanno tagliato il 66% dei profitti anche dei fotografi che vendono tanto perlomeno per i primi mesi dell'anno. Quindi questa è l'operazione tramite la quale hanno risparmiato un sacco di soldi che possono ottenersi e li hanno sostanzialmente tolti a noi che carichiamo le immagini. Questo è il motivo per cui nei primi mesi dell'anno noi che carichiamo costantemente immagini, vediamo non decrescere il numero di vendite, ma decrescere le commissioni che ci vengono corrisposte per ogni singolo download. Ora, come si può combattere una situazione di questo tipo? Fondamentalmente ve lo dico, non si può. Nel senso che questa è una decisione insindacabile del CEO di Shutterstock che ha deciso, che voleva far vedere che riusciva a risollevare l'azienda, nonostante non è che stesse male l'azienda, però voleva far vedere che si poteva fare di più e l'ha fatto a spese nostre e noi non abbiamo voce in capitolo, non ci possiamo fare assolutamente niente. Come ci possiamo difendere? Vi dico la mia formula personale. Prima cosa, non prendersela e non abbattersi. Seconda cosa, vendere su altre piattaforme. Terza cosa, caricare di più. Quarta cosa, puntare sui video. Vado a cercare di motivarvi un po' le mie scelte. Allora, ovviamente non abbattersi perché altrimenti si mollerebbe tutto e fondamentalmente è anche un peccato perché chi ci ha investito una vita e magari ha su un numero considerevole di immagini, magari vuole continuare a vederle fruttare, non vuole chiudere la collaborazione in questo modo, anche se sarebbe assolutamente suo diritto. Il secondo step ovviamente è vendere su altre piattaforme. È un periodo in cui secondo me avere l'esclusiva con una piattaforma di microstock è quanto di più insensato possiamo fare. Per una serie di motivi. Primo perché non siamo fotografi eccezionali. Guardiamo in faccia la realtà, non siamo fotografi eccezionali. Se facciamo microstock non siamo fotografi eccezionali perché i fotografi eccezionali fanno altro. Noi che ci occupiamo di microstock siamo bravi, magari siamo molto bravi, però non siamo eccezionali. Tant'è che facciamo microstock. Poi con le dovute eccezioni ci sarà qualcuno che è eccezionale e sta facendo microstock perché è in un momento di difficoltà o lo sta facendo per partire ma lui è più bravo di così. Anch'io credevo di essere in quel gruppo. Invece poi mi sono dovuto un po' ridimensionare e mi sono detto tutto sommato tu sei uno che lavora, sei un artigiano, fai il tuo, però non hai quella cosa per cui cioè non lavori per National Geographic, non ti hanno chiamato a fotografare Madonna o Bruce Springsteen. Per cui non sei dentro in quell'insieme di fotografi che non hanno bisogno del microstock perché quelli non ne hanno bisogno. Noi tutti che facciamo microstock non siamo fotografi eccezionali e quindi non essendo fotografi eccezionali non abbiamo la possibilità di puntare come si faceva una volta. Fotografi eccezionali che c'erano una volta su Ghetti puntavano su dieci immagini e quelle dieci immagini gli fruttavano tutto l'anno. Oggi vuoi perché la concorrenza è di più, è più spietata, insomma non è più come una volta, il mondo del microstock non è più quello di una volta. Vuoi per questo, vuoi perché comunque di fotografi eccezionali ce n'è sempre pochissimi, però di foto eccezionali magari fatte per caso ce n'è sempre di più. Quindi se io prima ero un fotografo eccezionale e campavo con quattro foto in croce fatte in Nuova Zelanda al tramonto e quelle mi bastavano per tutto l'anno, adesso è pieno di turisti, gente come me, quindi fotografi professionisti che però vanno in vacanze e fanno anche loro la loro brava foto di stock. La competizione per quei fotografi eccezionali è aumentata anche se non hanno a che fare con fotografi bravi quanto loro. Io non vado in Nuova Zelanda, faccio quattro foto e mi fruttano tutto l'anno. Vado in Nuova Zelanda, ne faccio 800 di foto e ho a malapena un minimo di cashback sul viaggio in Nuova Zelanda che ho fatto. Questo semplicemente per dire che i guadagni non sono più quelli di una volta, però la competizione sta colpendo anche quei fotografi eccezionali che erano stati i primi a fare le foto in Nuova Zelanda. Quindi io che vado lì con la mia bella macchinina in vacanza a guardarmi i panorami, faccio le mie foto, le metto sui motori di ricerca del microstock e vado in competizione con quei fotografi eccezionali. Mi metto in competizione con loro perché un cliente da casa potrebbe comprare la mia invece della loro. Quindi il mondo è cambiato. Questo che cosa significa? Che una volta poteva avere senso per un fotografo eccezionale o per un fotografo che aveva iniziato prima degli altri che ci aveva visto lungo. Poteva avere senso avere l'esclusiva con una piattaforma come Getty che pagava tanto. Oggigiorno con la competizione che c'è siamo tutti in giro. Ci sono le compagnie low cost. Ognuno di noi può prendere un aeroplano e andare dall'altra parte del mondo per pochi spiccioli se prenota in anticipo che è una cosa secondo me folle. Per cui con questo livello di competizione con gente che è in giro e che fa foto delle vacanze magari anche col cellulare e poi però le carica magari anche su suggerimento di gente come me quindi non sono neanche del tutto innocente. Però di fatto la competizione si è alzata e quindi se è più difficile vendere sulla singola piattaforma ecco che bisogna differenziare. E quindi la mia prima regola in realtà è la mia prima regola per combattere i difetti della singola piattaforma è di sfruttare il multipiattaforma. Esserci su più piattaforme. Sfruttare il nostro lavoro in maniera tale che se deve essere venduto a poco su una piattaforma sola che venga venduto anche altrove. Sempre a poco però quantomeno anche altrove perché i clienti non sono tutti su una piattaforma sola. Quindi in questo modo stando su più piattaforme mettendo le stesse immagini su più piattaforme riusciamo un pochino a recuperare quello che questo scaglione di Shutterstock ci ha tolto. Puntare sul video perché vi dico questo? Per almeno due ottime ragioni. La prima è che i video vengono pagati più delle foto. Questo da sempre lo sappiamo. Se una foto frutta 10 centesimi un video probabilmente ne frutta almeno 20 che è una miseria in ogni caso ma è comunque il doppio. Il secondo motivo è che perlomeno su Shutterstock gli scaglioni della vendita di spezzoni video sono molto più brevi rispetto a quelli fotografici. Quindi vendendo pochi video riusciamo a guadagnare una percentuale molto maggiore rispetto a quella che dobbiamo raggiungere vendendo fotografie. Ovviamente è più difficile fare video, è più difficile farseli accettare, sono più pesanti, è più difficile lavorarli, ci porta via più tempo. Quindi dobbiamo proprio prendere le misure su sta cosa. Però riuscire a essere efficienti in ambito video parlando di microstock secondo me può essere una formula con cui un pochino si va a combattere questo scaglione bestiale che ci è stato imposto e con cui ci hanno di fatto sottratto il 66 per cento di quello che guadagnavamo prima. Un'altra cosa che possiamo fare, qui voglio spezzare una lancia in favore dell'agenzia stessa, con i brief che ci vengono elargiti di mese in mese la piattaforma ci dice quali sono le immagini che stima possano essere richieste il mese successivo. Per cui andando a scattare esattamente quello che la piattaforma vuole, se la piattaforma ha fatto bene i suoi calcoli, è possibile che andiamo a realizzare delle immagini che venderanno subito nel breve periodo e che quindi ci aiuteranno a raggiungere prima gli step, a bruciare prima le tappe e quindi a riguadagnare una nostra percentuale un po' più consistente prima nel corso dell'anno piuttosto che verso la fine dell'anno. Perché intendiamoci, se prendiamo il 15 per cento per tutto l'anno non abbiamo guadagnato niente, cioè ci portiamo a casa 100 euro in un anno. Invece se riusciamo in pochi mesi, se nei primi tre mesi dell'anno riusciamo a tornare al 30 per cento, significa che prenderemo molto di più. Quindi è assolutamente conveniente in questo senso. Ovviamente parlando di microstock la cosa più conveniente in assoluto è quella di lavorare su immagini come sempre, senza tempo, immagini che possano ispirare ed essere comprate sostanzialmente negli anni a venire. Quindi immagini evergreen che vadano bene per una miriade di situazioni, di contesti e che vengano acquistate continuamente nel tempo. Oppure puntare su fotografie di eventi molto importanti che si verificano in un dato momento. Quindi faccio un esempio, se ci sono i mondiali di calcio nella vostra città, quelle sono fotografie che vendono subito. Sono fotografie che probabilmente non venderanno negli anni a venire, però sono fotografie che di sicuro vendono subito. Quindi andando a ragionare, usando la testa, riusciamo un pochino a rimanere a galla in questo mercato. Dobbiamo puntare su fotografie che vendano. Quindi l'obiettivo è quello, vendere sempre. E questo si fa o realizzando delle grandissime immagini che vadano bene nel tempo, oppure realizzando delle immagini decorose di eventi particolari localizzati nel tempo e nello spazio che però siano di grande interesse, come possono essere un mondiale o un'olimpiade. Bene amici, arrivati a questo punto io vi chiedo che cosa ne pensate. Scrivetemelo giù nei commenti, iscrivetevi se qualcuno di voi è contento delle decisioni prese dal CEO di Shutterstock oppure se come me avreste una grandissima voglia di introdurvi in casa loro e scambiargli tutte le etichette dei condimenti in cucina. Nel caso me lo fossi dimenticato vi chiedo nuovamente un supporto a questo canale iscrivendovi con il bottone qui sotto e attivate anche la campanella così non vi perdete la miriade di contenuti strabilianti che ho in servo per voi. Lasciate anche un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo e signori buone foto e io vi do appuntamento al prossimo video.